Buongiorno a tutti, grazie a tutti, soprattutto alla squadra che abbiamo giocorato nella presenza e la città è orgogliosa, la squadra lo era anche quando abbiamo, diciamo, meno fortuna, ma ovviamente pensando alla casa dell'autore, siamo molto bellissimi, la nostra società soprattutto per un gioco, particolarmente per un f used o cemento e volto, siamo veramente contentissimi. Grazie a tutti.